ciao allora questo è il colistardo adesso lo spalmiamo sulla fronte naso questo serve per opacizzare serve per dare un tono unico giusto poi adesso sulla fronte che altrimenti i raggi solari fanno e questo è questo è importante questa qua questo è il born is the queen è per le occhiaie questo è per le occhiaie se per gli occhiai che da quando abbiamo fatto la cura si sono ecco lo spalmiamo altrimenti ma facciamo rambo e così stendiamo e poi sempre lo stesso prodotto lo mettiamo pure nei punti nei punti dove si forma del sepo no non si forma il sepo ecco questa è la palette la palette questo è lei sta indicando il prodotto che mette che metterà ecco e si perché andiamo a coprire con un modo polveroso la crema messa la crema messa se si può chiamare crema come si chiama il prodotto il correttore il correttore ecco adesso diciamo che invece mette ecco l'altro prodotto questo prodotto è una cipria una cipria che serve per compattare tutto il trucco questo è il mascara questo è il mascara ecco il modo da rendere lo sguardo più sapete voi ragazze più profondo anche per aprire lo sguardo per aprire lo sguardo e come si fa per chiuderlo ecco ah questo è bellissimo questo è l'illuminante nooo questa è la cipra eh la cipra no e che cosa è questa questo è per fare le mele le mele le mele le melucce le melucce adesso ma che serve quello scusa vediamo che cos'è è un pennello e lo so questo è un pennello quello precedente che ho detto cipra che cos'era era un blush un blush ecco questa è la matita contorno labbra mmm contorno ecco hai visto contorno labbra adesso lo mettiamo questa boccuccia piccolina il rossetto eccolo ecco adesso mettiamo com'è che lo metti così lentamente no lo so a ralline mmm bene adesso stendiamo la chioma non avevamo voglia del parrucchiere vero? no proprio di farmi i capelli ok adesso li leghiamo sono sei mesi ok quindi sto legando i capelli cioè stai legando i capelli ecco ah quindi non li leghi solo fai la fai la 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 come si chiama questo tecnicamente lo scignolo lo scignolo questo grande così ah così mi piace drink eh drink ecco qua Samara benissimo ecco quindi questa suppongo sia un'acconciatura per la sera non è la sera ma era giorno eh tipo questa magari quando si più per la sera però la faccio anche di giorno o tezenis giusto? me lo so cambiato però con i capelli hai visto? si mettiamo questi qua ecco per rendere questi qua cosa sono? corechini corechini ah e poi ci giochiamo si questione e e e ciao ciao